Nel calcio non c'è tanto contatto con il pubblico, mentre qua siamo a contatto uno con l'altro e il bello è quello. Se ci fosse più contatto pubblico ai giocatori, magari anche loro sarebbero molto più sciolte. Tu hai iniziato a Milano, che effetto ti fa? Tornare a Milano? Credi che un giorno possa tornare una grande Milano? Io mi auguro prima che si torni a Milano e non a Castellanza, con tutto il rispetto di Castellanza ovviamente. E poi mi auguro che a Milano torni quella che era una volta, quella della Mediolami magari, c'erano bei tempi, ma anche poco dopo, anche l'assistente. Sono partito dalla Mediolami perché sono partito da lì io, l'ho fatta è tutto, la talle, poi la chiusura, la riapertura. A Milano ne ha bisogno.